Buongiorno a tutti, sono Alessio Zeni, frequento la quinta A Scienze Applicate e l'anno prossimo frequenterò l'Ingenieria Informatica a Trento. Quando ero alle medie per scegliere le superiori, mi sono fatto consigliare principalmente dalla famiglia perché ho sempre avuto la passione per le materie scientifiche, però ero un po' indeciso tra scientifico e scienze applicate. All'inizio ho scelto scientifico appunto perché credevo che le scienze applicate fossero una sorta di liceo scientifico di serie B e ho fatto un anno lì allo scientifico però per i miei gusti ero un po' troppo sbilanciato verso l'area umanistica. L'ho preferito spostarmi verso le scienze applicate e mi sono trovato bene. Le materie fondamentali sulle scienze applicate, insomma le materie si discostano dallo scientifico tradizionale sono principalmente la biologia e l'informatica, quindi per una scelta bisogna considerare voglio tenermi aperta al momento dell'università una scelta anche da un punto di vista umanistico come letteratura oppure fare l'avvocato o cose di questo tipo oppure preferisco avere un'impronta un attimino più sbilanciata verso biologia o informatica. Niente, fate la vostra scelta pensando bene.